chi l'ha detta? adu adu volviamo in bacio in diretto tra... che cazzo? che è successo? che c'è? che c'è? che è casa nostra? che è casa nostra? che cosa? che cosa? che cosa? ma forn pottino ma che sei da un? shhh! ma che cazzo fai? shhh! ma che cazzo fai? ma che cazzo fai? hai spaccato il vetro! ma che cazzo di problema di fai? shhh! ancora urla ma se tu mi spacchi il vetro, ovviamente puoi dire cose con le parole non c'è bisogno non c'è bisogno puoi parlare ma che cazzo fai?" ah no ti trattavo la posta vorrei dovrei parlare riega clippate riega clippate ha bless Familie no